Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e questo è Nuovo Video True Crime. Se siete interessati a questo genere di video vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. E se vi va potete anche seguirmi su Instagram o aiutarmi a far crescere l'altro mio canale. Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Il caso di oggi è in collaborazione con Chiara del canale Crimini & Co. Se volete supportare anche il suo canale vi consiglio di iscrivervi perché è una ragazza molto brava e racconta i casi con precisione e accuratezza. Inoltre oggi uscirà un video in collaborazione con me anche sul suo canale, quindi vi consiglio di correre a vederlo. Detto questo, iniziamo! Il caso di oggi ha luogo nel 2011 ad Armstrong, in Canada. Una cittadina situata nella Columbia Britannica e la protagonista della nostra storia è Taylor Van Deest, una ragazza di soli 18 anni. Taylor vive ad Armstrong insieme a sua madre Marie e a sua sorella gemella Christy. Viene descritta come una ragazza simpatica e divertente, si è appena diplomata alla Pleasant Valley Secondary School e la musica è una parte molto importante della sua vita. Adora la musica jazz e il blues. Le piace trascorrere il suo tempo libero giocando a World of Warcraft con i suoi amici. È una ragazza talentuosa che non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Il 31 ottobre 2011 è pronta a festeggiare il suo giorno dell'anno preferito, ovvero la notte di Halloween. Quella sera si traveste da zombie. È pronta a trascorrere la serata insieme al suo ragazzo Colton e alle sue amiche Clay e Zoe. Alle 17.50 Taylor esce di casa per incontrarsi con i suoi amici vicino a una stazione ferroviaria. Inizia quindi a camminare e dopo 10 minuti invia un messaggio al suo ragazzo. Quel messaggio è piuttosto inquietante. Solo due parole. Sono spaventata. Il ragazzo viene colto da una brutta sensazione. Sente che deve essere successo qualcosa di preoccupante alla sua ragazza. Quindi avvisa subito la madre di Taylor, spiegando la situazione. E insieme alle altre due amiche iniziano a cercarla. Percorrono lo stesso tragitto che avrebbe percorso Taylor, ma della ragazza nessuna traccia. Ora passo la parola a Chiara, di Criminal Co. Questa parte della storia ve la racconterà lei. Voglio davvero ringraziare Ilaria per avermi dato uno spazio sul suo canale. Ed ora continuiamo con la storia di oggi. La famiglia di Taylor, così, chiama la polizia, che si mette subito alla ricerca della ragazza. Alle 19.30 due ragazzi del posto trovano il suo telefono vicino ai binari di una ferrovia. E quindi tutti insieme continuano la ricerca nei dintorni. Alle 20.45 la madre e gli amici di Taylor finalmente trovano la ragazza vicino ai binari. Sdraiata a faccia in giù, piena di sangue ed in fin di vita. C'è molto freddo e quindi una delle sue amiche la copre con la sua giacca. Sua madre le si avvicina, la abbraccia, supplicandola di continuare a combattere e di attendere i soccorsi. Le sue condizioni sono ormai molto gravi ed i paramedici la trasportano nell'ospedale più vicino. La situazione è drammatica perché Taylor ha subito ferite molto gravi alla testa. Ed i medici notano subito che le sue pupille sono fortemente dilatate e non rispondono a nessuno stimolo. Da questo si deduce che il danno celebrale è molto grave. Tutti gli sforzi per salvarle la vita saranno vani purtroppo perché Taylor morirà la mattina successiva a causa di un'emorragia. La famiglia e gli amici rimangono devastati ed increduli da quella perdita improvvisa. Gli agenti avviano subito le indagini e tutti i residenti del paese, che conta pensate solo 5.000 abitanti, sono terrorizzati dal pensiero di un killer squilibrato a piede libero. Nel frattempo viene eseguita l'autopsia sul corpo di Taylor. La ragazza ha subito un'aggressione sessuale, è stata picchiata ed infine strangolata. Ha ricevuto alcuni colpi alla testa che le hanno fratturato il cranio. Il suo corpo presenta anche altre ferite, tra cui lacerazioni e contusioni. Ha molti lividi, sia sulle mani che sulle braccia. Due delle sue dita sono rotte, presumibilmente si sono spezzate nel tentativo di difendersi dal suo aggressore. L'autopsia mostra inoltre che la ragazza si è graffiata al collo, nel tentativo di togliersi qualcosa di non ben specificato che era stato utilizzato per strangolarla. Più tardi si scoprirà che quell'oggetto sia il laccio di una scarpa e si scoprirà anche che le ferite in testa siano state causate da alcuni colpi con una torcia ed un tubo di metallo. La cosa molto importante emersa durante l'autopsia è che Taylor, nel momento in cui è stata aggredita dal suo aggressore, lo ha graffiato. Dunque il killer ha tolto la vita a Taylor, ma lei ha preso il suo DNA. Sotto le unghie di Taylor vengono trovate tracce di pelle e sangue, sicuramente appartenenti all'assassino. Gli agenti inviano quindi i campioni trovati al laboratorio. Dopo qualche tempo arrivano i risultati e si scopre che il DNA del killer corrisponde a quello di un crimine irrisolto avvenuto nel 2005 a Kelovna. Una donna, mentre stava tornando a casa dal lavoro, era stata picchiata ed aggredita, sessualmente. Purtroppo all'epoca la polizia non era riuscita a catturare il responsabile, ma è diventato abbastanza chiaro che sia la stessa persona che ha ucciso Taylor. Sulla base delle informazioni fornite dalla donna viene realizzato un identikit che viene rilasciato al pubblico durante una conferenza stampa. L'immagine ritratta è quella di un uomo di circa 20 anni, carnagione scura, occhi castani, capelli corti e castani e sopracciglia folte. Da quel momento in avanti arriveranno centinaia di segnalazioni. Da una città vicina, Cherryville, che conta circa 900 abitanti, ben 30 residenti riferiscono di sapere chi sia la persona di quell'identikit. Grazie a quelle informazioni, gli investigatori sono in grado di restringere molto rapidamente la cerchia dei sospettati. E quelle 30 segnalazioni si riferiscono tutte alla stessa persona, ovvero Matthew Forster, un ragazzo di 25 anni. Gli agenti rintracciano il suo indirizzo e si recano immediatamente a casa sua, ma di Matthew non c'è nessuna traccia. Contattano quindi il suo padrone di casa, ma l'uomo riferisce che il ragazzo aveva lasciato l'appartamento pochi giorni dopo l'omicidio di Taylor. Aveva chiaramente fretta di andarsene e non voleva nemmeno aspettare i tempi della restituzione dei soldi della cauzione per l'appartamento. Quando gli agenti perquisiscono la casa, non trovano nulla che appartenga a Matthew, non c'è alcun oggetto personale. La polizia riesce a rintracciare suo padre, Stephen, e gli chiedono informazioni su suo figlio. Lui riferisce che Matthew è una brava persona e che non avrebbe mai fatto del male a nessuno e che non vive più in quell'appartamento perché si è trasferito. Ha infatti trovato un buon lavoro su una piattaforma petrolifera. Ma non sa dire esattamente dove si trovi in quel momento. Gli agenti sospettano che Stephen possa magari aver aiutato suo figlio a fuggire. Indagano sulla sua vita e scoprono che l'uomo ha dei precedenti penali. Credendolo complice, mettono sotto sorveglianza il suo telefono e i loro sospetti si riveleranno giusti. Tramite le loro conversazioni telefoniche scoprono infatti che per cinque mesi Stephen ha aiutato suo figlio a scappare. Stephen è riuscito a fornire a suo figlio una nuova identità. Gli ha procurato una patente di guida, una carta di credito ed un numero di previdenza sociale. Tutti ovviamente falsi. A questo punto Stephen viene arrestato con l'accusa di favoreggiamento e durante la sua permanenza in prigione inizia a parlare con un altro detenuto. Nel giro di poco tempo racconta al suo compagno tutto ciò che aveva fatto per aiutare suo figlio a scappare. Quel detenuto in realtà è un agente sotto copertura e sulla base di tutte quelle informazioni gli investigatori riescono a rintracciare rapidamente Matthew. Vive a Collingwood, un comune del Canada situato nella provincia dell'Ontario e quindi il 4 aprile del 2012 Matthew viene arrestato ed interrogato. E a questo punto io ripasso la parola ad Ilaria che vi racconterà la fine di questa storia. Il ragazzo durante l'interrogatorio racconta tutto ciò che ha fatto. Quella sera Matthew nota che Taylor sta camminando da sola e decide quindi di tentare un approccio con lei ma la ragazza non è minimamente interessata non vuole nemmeno parlargli quindi Matthew la aggredisce picchiandola violentemente. Taylor cerca inutilmente di difendersi ma il ragazzo la colpisce con la sua torcia e un tubo di metallo che trova lì vicino e successivamente purtroppo la aggredisce semplicemente. Tenta anche di strangolarla con il laccio di una scarpa. Finito l'orrore, corre via con la sua auto si dirige a Vernon e getta la torcia e il laccio in un cassonetto della spazzatura. Vista la sua confessione Matthew viene accusato di omicidio di primo grado. Durante il processo il patologo forense mostra le foto dell'autopsia dichiara che Taylor è stata colpita violentemente alla testa per sei volte afferma anche che uno dei colpi è stato così forte da fratturarle il cranio. Aggiunge che il corpo di Taylor presenta segni sul collo che indicano che fosse stata strangolata con qualcosa di lungo e sottile come una collana o una corda. Mentre il medico legale parla delle ferite di Taylor Matthew sembra completamente impassibile. Due residenti della zona testimoniano di aver sentito delle urla ma quella sera è Halloween quindi pensano che si tratti di uno scherzo. Sempre durante il processo viene anche fuori che il DNA di Matthew corrisponde a una terza aggressione avvenuta nel 2004. L'uomo era entrato di nascosto nella casa di una sua vicina la 19enne Kaylee Paul. Lei stava dormendo e lui l'aveva aggredita dal momento che Matthew indossava una maschera Kaylee non aveva idea di chi fosse il suo aggressore e soprattutto non sapeva che il suo aggressore vivesse proprio accanto a lei. Nonostante tutte le prove contro di lui Matthew si dichiara non colpevole. Ad aprile del 2014 Matthew viene giudicato colpevole di omicidio di primo grado e coemannato all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale dopo 25 anni. Successivamente l'uomo presenta un appello e sfortunatamente gli viene assegnato un nuovo processo. La difesa sostiene che Matthew non abbia premeditato di uccidere Taylor. In sostanza l'uomo è consapevole che le sue azioni avrebbero potuto causare la morte di Taylor ma non lo aveva pianificato in anticipo. Questa volta quindi Matthew si dichiara colpevole però dell'accusa di omicidio di secondo grado. Durante lo svolgimento di questo processo Matthew dichiara di sentirsi in colpa e di non averla voluta uccidere. Sembra pentito e sicuramente è convincente visto che i membri della giuria e il giudice abbreviano la sua pena. Il processo precedente viene quindi rivalutato e nel secondo processo Matthew viene condannato all'ergassolo con possibilità di libertà condizionale dopo 17 anni a cui sono stati aggiunti 12 anni per le altre aggressioni che però verranno scontate contemporaneamente all'accusa di omicidio di Taylor. Questo significa che nel 2029 Matthew potrà beneficiare della libertà condizionale. Anche il padre di Matthew Stephen viene accusato precisamente di intralcio alla giustizia. Riceve una condanna a soli tre anni di carcere e una multa di 1000 dollari. Come possiamo immaginare la famiglia di Taylor è devastata da questa sentenza. Sono scioccati dal fatto che un uomo che ha commesso tali aggressioni e un omicidio possa camminare libero prima di aver compiuto 45 anni. La madre di Taylor Marie ha espresso tutto il suo disgusto e rabbia nei confronti di Matthew e della sua condanna. Pensa che la pena inflitta sia veramente breve. Inoltre non è per nulla convinta del pentimento di Matthew e non crede che questo ragazzo provi davvero rimorso. La donna ha anche sottolineato che nella lettera di scuse scritta da Matthew non ha mai menzionato il nome di Taylor. Nel 2013 la madre e la sorella gemella di Taylor hanno creato il Taylor Jade Van Deest Memorial Trail. Hanno praticamente fatto asfaltare il pezzo di strada che aveva percorso Taylor prima di essere uccisa. Hanno realizzato questa sorta di sentiero e lo hanno decorato con delle bellissime piante. C'è anche una panchina e una statua di un angelo dedicata anch'essa a Taylor. Questo progetto rappresenta una sorta di aiuto psicologico per i familiari e gli amici di Taylor anche se non potranno sicuramente mai dimenticare la tragedia che ha portato loro via una persona importante. E con questo abbiamo finito anche il video di oggi. Spero che lo abbiate trovato interessante e che questa collaborazione vi sia piaciuta. Mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti tutte le vostre impressioni le vostre opinioni e io vi ringrazio specialmente se siete rimasti fino alla fine di questo video. Come sempre io vi mando il mio grande abbraccio virtuale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao! Grazie a tutti